quanto si impara facendo review per esperienza diretta si impara molto anzi credo che sia il modo migliore per crescere nel gioco del go naturalmente non è facile ottenere delle review però ci sono due strategie di base la prima strategia è chiedere online ci sono dei forum nel quale vengono fatte delle review e queste sono fatte in inglese però comunque assolutamente comprensibili la seconda modalità è utilizzare un software di livello dan penso lila zero e anche altri comunque e si può cominciare a guardare la propria partita e cercare di vedere se le nostre mosse sono poi così tanto differenti da quelle suggerite dal computer naturalmente questa seconda modalità è per giocatori che hanno già raggiunto un certo livello per esempio sono comunque già almeno almeno 8 9 più almeno perché i giocatori principianti trarrebbero pochissimo beneficio da un'analisi al computer sarebbe quindi più importante diciamo fare una review a mano da un giocatore vero e proprio prendiamo la partita in esame questa partita è stata bloccata dopo 100 mosse e i due giocatori sono chiaramente due principianti dopo 100 mosse abbiamo notato che ci sono 44 mosse sbagliate concettualmente e ce ne sono 56 di giuste diciamo comunque non criticabili questo fa capire che se i principianti fanno una serie review delle proprie partite possono migliorare proprio a vista d'occhio molto rapidamente certamente la pigrizia certamente la poca poca diciamo motivazione nei confronti dello studio possono bloccare molto rapidamente questo tipo questa tipologia di giocatore principiante tuttavia ripeto vediamo come solo guardando una partita ed eliminando 44 errori possiamo veramente far fare il salto di qualità ai giocatori mi soffermerò solo sugli errori più gravi perché veramente ce n'è uno ogni due mosse di media quindi cerchiamo di focalizzarsi solo su quelli più importanti vedrete che il primo errore è la non conoscenza del giosecchi questa mossa è molto lenta non ha nessun significato la mossa giosecchi è questa qui se proprio insisti nel fare questo attachment questa mossa non ha nessuna nessuna diciamo non deve essere sulla preoccupazione come sappiamo insomma questo questo taglio chiaramente molto sicuro e comunque bisogna conoscere giosecchi almeno quelli di base diversamente non si riesce a progredire almeno a livello di apertura certamente se poi si è bravissimi nella tattica i giosecchi si possono saltare ma di media almeno conosce giosecchi di base è una cosa buona e giusta vado più avanti ancora una volta c'è un errore di forma il giocatore col bianco non conosce le forme basilari in questa posizione chiaramente è molto migliore una mossa di questo genere perché vedete che in qualche modo costringe il nero a fare una forma molto brutta un triangolo vuoto senza contare che questa mossa protegge in qualche modo anche l'angolo c'è sicuramente ci sono dei tagli possibili però comunque la forma molto più solida e poi eventualmente si può estendere dopo ok su error di forma nel prossimo c'è un altro errore di forma oltre che di una mossa molto lenta essenzialmente inutile questa forma è nota come il triangolo vuoto vedete che questo triangolo vuoto è una forma che deve essere giustificata solo da esigenze molto precise mentre in questo modo in questo spot è chiaramente inutile oltre che essere una mossa lenta di per sé quindi un altro errore di forma quindi il triangolo vuoto da eliminare quanto prima una mossa migliore poteva essere questa che ancora una volta è una mossa che viene suggerita se si conosce una benti ben chiaro diciamo nota tipologia di giosecchi nel quale c'è con questa specie di pushing battle non facilissima da gestire sicuramente però chiaramente una mossa che impedisce al nero di schiacciare il bianco lungo il lato quindi forma anche questo è un errore stavolta del nero questo tipo di errore non è malvace non è proprio facile da notare perché questa mossa comunque buona perché se pare il se pare il bianco in due gruppi tuttavia prima di fare questa mossa è meglio fare un po di leaning cioè di minacciare questo hane che parecchio fastidioso per attaccare un po meglio poi questa questo gruppo avendo diciamo il supporto di questa pietra quindi mancanza della tecnica del leaning attack più avanti il bianco ha calcolato male il taglio ma poteva essere visto comunque come un sacrificio solo che a questo punto questa mossa è perfettamente inutile perché soprattutto non c'è il concetto di punto vitale cioè il bianco deve avere in testa come prima possibilità il fatto di attaccare i gruppi avversari una mossa come questa sarebbe stata molto più difficile da gestire per il nero perché vedete che toglie tutto lo spazio per fare gli occhi e non è semplice uscirne per un giocatore naturalmente del livello del nero va davanti ok questa è un'altra tipica un altro tipico errore di giocatori q loro quando vedono la possibilità di entrare in questo modo immediatamente corrono ai ripari e difendono sulla seconda linea questo è un errore molto tipico non solo in questo sport ma anche in molti altri giosecchi in molti altri approcci cosa c'è di male in questa mossa è vero che difende di più questo questo gruppo però questo gruppo non è in pericolo perché può sempre collegarsi comunque quel centro quindi questa mossa è una mossa buttata via tenendo conto che bisogna cercare di recuperare le tre pietre di vantaggio mettersi sulla difensiva in questo modo non è la migliore delle cose una mossa come questa sarebbe stata più interessante pure come questa pure come questa perché comunque il nero non può fare niente neanche con una mossa come questa che può essere sicuramente fastidiosa non c'è dubbio però bisogna tener conto appunto che non bisogna solo difendersi quel bianco ok vado più avanti in questo spot il bianco gioca un'altra mossa che è comunque discutibile è una pip che cerca di tagliare il nero però in questo modo si fa una sorta di agi cash non è proprio agi cash in senso stretto però comunque costringe nero a giocare una mossa forzata praticamente che aiuta la forma del nero più di quella del bianco ancora una volta il bianco è perfettamente al sicuro questo non è solo quindi un errore di agi cash in una mossa come questa è molto più indicata quindi di aiutare il nero a eliminare i propri diciamo difetti strutturali ma questa mossa fa chiaramente intendere che il bianco ha delle difficoltà a gestire i problemi di vita di morte di questo gruppo e quindi per evitare di rischiare giocamosse in consulte che è vero rafforzano la sua forma però rafforzano di più quella del del nero ok più avanti ok dopo un po di scambi appunto il bianco taglia che va bene naturalmente come mossa e il nero gioca in questo modo un altro errore è che i principianti giocano atari la prima cosa che vedono quando una pietra può essere circondata da altre tre pietre è proprio quella di cercare di catturarla tuttavia una mossa dopo si rendono conto che hanno combinato un disastro perché vedete che semplicemente la pietra hanno obbligato l'avversario a giocare una mossa sicuramente giusta e non hanno ottenuto assolutamente niente con questo atari quindi l'altro errore è che i principianti giocano atari appena ne vedono uno lo giocano cosa che deve essere fatta con una certa condizione di causa questa è la forma corretta ma ancora una volta questa forma corretta quando si può sapere se non si conosce generalmente un giosechi 4 4 lo zucca nobi di cui abbiamo parlato qualche qualche video fa questa è la forma che viene istintiva perché si riconosce vedete in queste tre pietre lo zucca nobi cioè mettiamo che questo c'è punto 3 4 l'approccio basso lo zucca nobi sopra lo hane e poi dopo questa estensione vado avanti e quindi dopo ovviamente si doveva estendere in questo in questo in questo modo quindi sul sulla destra ok principati giocano atari più avanti ok questo è un altro problema perché il nero diciamo il bianco diciamo in questo caso non riconosce il pattern della scala vedete che queste pietre sono catturate in una scala cosa che probabilmente conosce però non conosce a sufficienza perché ovviamente questa mossa qua che sarebbe stata fatta con l'idea di rubare la forma diciamo a queste a pietre chiaramente inadeguata perché la priorità è quella chiaramente di salvare le pietre che hanno tagliato diciamo i due gruppi del nero quindi il problema di scala essenzialmente più avanti appunto il nero cattura in scala ok il nero commette a sua volta un altro errore perché perché ancora una volta quando vedono questa struttura qua che sembra una forma debole in realtà molto forte il nero cerca di fare una doppia pip diciamo no quindi cercare di attaccare sia questo sport che questo sport solo che chiaramente non è che si sta attaccando questa perché questa forma qua è assolutamente solida cosa vuol dire qual è la mossa corretta in questo punto è che come si sa quando si catturano delle pietre in una scala anche se questo significa prendere gote è sempre meglio eliminarle se voglio eliminarle perché queste possono essere fonte di agi infatti se per caso diciamo non non le eliminiamo cosa può succedere può succedere che in un futuro prossimo il bianco possa giocare una mossa di questo genere minacciando di entrare in uno dei tre spot se per caso io ne chiudo uno comunque li chiudo e vedete che semplicemente le pietre possono in qualche modo rinascere e a questo punto la struttura del nero sarebbe stata gravemente indebolita e si concederebbe senza motivo contro gioco al bianco quindi x qua si chiama ladder breaker se non si sa un ladder breaker è ovvio che naturalmente non ti viene assolutamente in mente una mossa come questa ok più avanti abbiamo quasi terminato ok abbiamo un altro raddore il bianco si preoccupa di salvare questa pietra che è perfettamente inutile quando invece bisognerebbe conoscere la tematica della riduzione se si riesce a ridurre vedete con questa mossa l'angolo del nero il nero ha un compito non da poco qualsiasi principiante avrebbe risposto chiaramente in questo modo si potrebbe giocare una mossa di questo genere poi questa il principiante avrebbe giocato questa e poi in qualche modo come vedete è più facile non lo so questo oppure addirittura questo non lo so è molto più semplice rubare territorio perché vedete che l'angolo in realtà è molto piccolo questo è perfettamente inutile ancora una volta il nero gioca una mossa che è buona sicuramente però bisogna sapere che ogni volta che c'è questa questa tipologia di struttura c'è questa pietra e questa pietra c'è l'occhio dell'elefante cioè si può saltare in mezzo si disconnettono i gruppi e questa pietra comunque deve giocarsela per sopravvivere che non è semplice diciamo per un principiante naturalmente sopravvivere in uno spot così piccolo quindi mancanza di forma ancora una volta ok una volta un atari completamente completamente assurdo non si sa neanche bene che cosa nella tarima un taglio assolutamente assurdo chiaramente una mossa come questa sarebbe stata molto grossa perché vedete che l'angolo diventa comunque molto molto esteso manca poco per l'ultimo spot ok ok che è questo qui arrivati a questo punto cosa deve giocare il bianco è una volta che ha ottenuto questa struttura vedete che è praticamente un praticamente quasi una getta solo che questo punto vitale qua non viene riconosciuto dal nero e quindi il bianco invece che giocare in questo punto avrebbe dovuto colpire il punto vitale notiamo come nelle mosse successive questa 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 forma e questo punto vitale venga completamente ignorato da entrambi i giocatori vedete queste sono essenzialmente quasi una mossa un errore a mossa vedete che proprio questo punto è completamente come si dice in inglese overlooked completamente ignorato quindi poi più avanti sempre peggio vedete non se ne curano proprio arrivati a questo punto un ultimo errore di forma vedete che il bianco connette una tipologia tipica di principianti invece una mossa corretta in questo punto naturalmente è il bamboo joint in questo punto allora abbiamo visto che se uno analizzasse seriamente questa partita qua avrebbe certo di che imparare chiaramente se si continua a giocare e giocare e giocare fine a se stesso senza mai guardare i propri errori si rimarrà sempre di principianti a vita il che può essere anche bello però alla lunga può essere anche noioso grazie 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 grazie